L'antico frantoio di via Roma, Venosa, ha moltissimo da raccontare. Un tempo sede di trasformazione delle olive raccolte sulle distese di origine vulcanica del Vulture e diretta al consumo locale, oggi quello stesso sito è il luogo dell'Elaioteca, insieme al Centro di Civiltà dell'Aglianico, dedito alla promozione e valorizzazione delle eccellenze territoriali. L'iniziativa è del GAL Sviluppo Vulture Alto Bradano, dall'inaugurazione avvenuta la scorsa estate in poi, capace di incrementare le opportunità per i produttori, da alcuni anni riuniti in apposito consorzio di tutela. I 16 operatori interessati alla produzione e commercializzazione del DOP Vulture si sono uniti insieme nei frantoiani del Vulture e quindi, nonostante arriviamo un po' in ritardo, siamo la 42esima DOP riconosciuta in Italia, però cercheremo di fare il massimo per recuperare il terreno per tutto. Come per il nobile vino dei Briganti, è stato sottolineato nell'evento di presentazione del nuovo marchio, giallo ambrate e dal profumo fruttato, le bottiglie del primo olio DOP Lucano puntano a raccontare la cultura del Vulture in Italia e nel mondo. Insieme al vino, oggi noi possiamo dire che nell'area del Vulture questo centro può iniziare ad assumere un ruolo forte di promozione del territorio, di promozione dei prodotti. L'aver stilizzato anche lo stesso involucro che contiene la bottiglie dell'olio è un fatto altamente positivo.